Continua la lotta al traffico e al consumo di stupefacenti da parte dei finanzieri della compagnia dell'Aquila. Nell'area di servizio Valle Aterno Est, le fiamme gialle hanno arrestato un giovane imprenditore teramano di 25 anni. Addosso e sotto il sedile del pullman sul quale stava tornando da Napoli, il ragazzo aveva 10 confezioni di plastica, con dentro eroina e crack. Si trattava di dosi già pronti ad essere emesse nel mercato teramano. L'imprenditore è stato portato nella casa circondariale di Avezzano. Nell'operazione si è rivelato essenziale il fiuto del diligente cane antidroga PASIS. Il fiuto del cane antidroga, che è un gran bel cane, che ha già dato prova del suo valore, ma anche la professionalità dei militari, dei finanzieri, che sostanzialmente conoscono direttrici, orari e altri indici di sospetto. Le indagini sono ancora in corso sotto questo profilo, però si può supporre che fosse diretto a Teramo. Se il giovane imprenditore portava la droga da destinarsi allo spaccio teramano, altra droga girava invece nelle scuole superiore del capoluogo. Sempre con il supporto di unità cinofile, i finanzieri hanno effettuato sopralluoghi e controlli presso l'Istituto Superiore Leonardo Da Vinci, Ipsiasar, e nelle zone ad esso adiacenti. La dirigenza scolastica aveva lanciato l'allarme e infatti in alcuni locali dell'Istituto sono stati trovati alcune dosi di droghe leggere, un bilancino ed altro materiale necessario per la loro preparazione. Una persona è stata segnalata all'ufficio territoriale del governo dell'Aquila. L'uso di droga può essere spiegato anche come conseguenza del disagio post-sisma e diventa quindi fondamentale prevenire e informare i giovanissimi sui rischi che si corrono facendo uso di stupefacenti. Sicuramente i giovani attraversano un momento oltremodo più difficile qua all'Aquila. La nostra attenzione in questo senso è massima, la nostra collaborazione con le dirigenze scolastiche è assoluta. Abbiamo eseguito le dimostrazioni cinofile, antidroga presso tutte le scuole superiori di secondo grado. In realtà dietro la dimostrazione c'è anche uno scopo educativo condiviso con i dirigenti scolastici provinciali. Informativo, educativo, l'obiettivo finale è quello di far rendere conto il prima possibile, nel miglior modo possibile, dell'aspetto patologico, dell'aspetto negativo degli stupefacenti.